Non potevamo che mostrarvi queste immagini che danno risalto alla perfetta organizzazione del centro di vaccinazione Lazzaro Spallanzani di Roma. Una struttura perfettamente funzionale sotto tutti i punti di vista, nessuna attesa all'ingresso, dove è consentito l'accesso anche agli accompagnatori, che possono attendere i loro cari all'interno della struttura, comodamente seduti sulle panchine. L'accettazione per le persone che devono effettuare la vaccinazione è velocissima, nessun ritardo sembra di trovarsi in una struttura privata. Gentilezza e cortesia da parte degli operatori sono le parole che abbiamo sentito pronunciare da più persone durante la nostra permanenza all'interno della struttura sanitaria. Ultima nota positiva, secondo noi la più importante, è il ritardo registrato tra l'appuntamento preso dal paziente e la somministrazione del vaccino è stato soltanto di 5 minuti. Non possiamo che condividere e apprezzare un'eccellenza sanitaria così ben gestita. Durante la nostra permanenza nel presidio vedico abbiamo raccolto solo complimenti e nessuna lamentela.